Una brutta serata per una giovane ragazza di 25 anni che si è recata al pronto soccorso nella vigilia di Natale, accusando un presunto caso di violenza sessuale. La squadra mobile dell'Aquila sta facendo tutte le indagini del caso, cercando di ricostruire i fatti grazie all'aiuto delle telecamere, che potrebbero permettere di ricostruire il tragitto fatto dall'automobile in cui si trovava la giovane ragazza. La 25enne, una volta recata al pronto soccorso, ha effettuato tutte le visite specialistiche ed è stata poi dimessa. Immediatamente è scattata la denuncia. Trattandosi di un caso così grave e delicato, non si conoscono ancora tutti i particolari, ma la squadra mobile, coordinata dal dottor Tormazzo Niglio, sta lavorando per fare chiarezza.